Lo spazzolino morbido e gli scovolini. Se ti crea problemi e non c'hai il tempo, idrogetti, idropulsore. Ma l'idropulsore è come lavare la macchina solo con l'idropulitrice. Si asciuga e tutto è impolverato. Non hai staccato il biofilm batterico con l'idropulsore. E anzi, è più pericoloso. E se io metto nella testa dei pazienti che l'idropulsore è facile da usare, pulisce rapidamente spruzzando acqua, in realtà lì sto creando tanti problemi. Perché il paziente ha una falsa illusione che ha fatto il suo lavoro. Invece no. La cosa più importante sono questi attrezzi qua. Per questo sto facendo una lezione dedicata solo su questo. Ho mai fatto una lezione sull'idropulsore? No. Perché so quanto può essere pericoloso credere che l'idropulsore sia... E so quanto è pericoloso credere che lo spazzolino elettrico sia la cosa migliore. Perché lo spazzolino elettrico lo devi usare così. 10 secondi. 10 secondi. Non lo puoi usare. Non lo fai mai. Noi siamo abituati a questo movimento da piccoli. Più quello si muove non hai pulito nulla. Ok, quello si muove, tu lo muovi, non pulisce. Ed è pericoloso. Se ti insegnano da piccolo a usare il dentista, l'igienista, lo spazzolino elettrico, allora se ti dico hai quel gesto, tienilo. Sono paragonabili, non c'è differenza. Ma se io faccio lo spazzolino, invece, manuale così, uno deve essere mosso, l'altro si muove. Ma se io muovo quello che... E non fanno nemmeno sull'orbo che non c'è nessuno. È bravo. Olio di gomito, la cosa migliore.